Buonasera, ben ritrovati in un certo appuntamento con la voce delle istituzioni, gradito ospite in studio il sindaco di Livino a Longo del Col di Adilana, Alejandro Grones, che saluto e che ringrazio per la disponibilità. Ed è occasione, Ghiotta, per parlare del turismo e delle conseguenze che il Covid ha creato per un settore strategico per la nostra provincia e in modo particolare per il comune di Livino a Longo del Col di Adilana, che tra le sue borgate è anche quella di Araba, che è sicuramente uno dei punti di riferimento del turismo. Ad oggi la situazione qual è? Siamo un po' in una fase di stand-by. Abbiamo i primi alberghi che hanno aperto, però il nostro turismo dipende molto dall'estero, quindi dall'apertura dei confini e dalla certezza che chi parte per venire in Italia, venire da noi a fare le ferie, non incorra in qualche incidente di percorso, chiamiamolo così, penso alla quarantena, penso a altre cose. Quindi sarà una partenza piuttosto lenta, ma io credo che già a luglio, a metà luglio partiremmo, se tutto va bene, insomma partiremmo abbastanza bene. Certo è una situazione che è difficile, difficile per tutti. E per quanto riguarda ad esempio i lavoratori che generalmente vengono reclutati dagli alberghi, sono riusciti, siete riusciti, visto che anche lei è un operatore del settore a trovare mano d'opera? Ma hanno avuto difficoltà a partire, credo che incontreranno anche delle difficoltà a lasciare i loro paesi per venire in Italia a lavorare ad oggi. Ci vorranno alcune settimane poi per capire bene come funzionerà. Per il momento non abbiamo un problema di reclutamento di mano d'opera, anche perché insomma a livello locale qualcosa c'è e in questa fase di apertura a marce basse degli alberghi non serve tutto il personale che serviva in precedenza. Senta, uno che ascolta queste voci ha l'idea che prima negli alberghi non si badasse molto alla pulizia in realtà, ma per mia esperienza c'è sempre stata una correttezza e un'attenzione particolare all'igiene in generale, ovviamente. Ma assolutamente sì, la pulizia è una delle prime cose che il cliente osserva, quindi tutti gli operatori turistici, tutti gli operatori commerciali e restauratori danno l'assoluta garanzia e massima attenzione. In più cosa dovete fare? Ma c'è questo certificare, c'è adesso l'incertezza sugli spazi comuni, ma insomma tutto risolvibile, è più un problema che manca la clientela, anche se ad Arabba devo dire a Livina Longo, ma come un po' in tutta le Dolomiti e la montagna Veneta appena c'è stata un po' l'apertura, abbiamo visto tantissimi turisti veneti passare un weekend sulle Dolomiti, un weekend, un giorno sull'Adenomiti e poi rientrare alla sera perché vogliono, c'è questa voglia di aria pulita è quello che noi riusciamo a garantire che per fortuna insomma, credo sarà anche la nostra fortuna perché la gente dopo questi mesi difficili e terribili per tutti cerca questo. Una preoccupazione è legata al fatto che molte manifestazioni sono state soppresse, anche molto importanti come la Maratona delle Dolomiti e poi altre. Nelle prossime settimane ci sono altri appuntamenti che verranno a mancare con conseguente calo, ad esempio dei cicloturisti. Il mese di giugno è sempre stato un mese molto importante per noi, per i paesi attorno al Sella, proprio per le tante manifestazioni ciclistiche che si organizzavano, il mese della bicicletta, insomma il mese di giugno è saltato praticamente tutto, ecco perché faremo fatica a lavorare, non dico faremo fatica a lavorare per recuperare, per lavorare a metà, però proprio senza le manifestazioni il mese di giugno per noi è andato. Adesso abbiamo delle manifestazioni, avremmo delle manifestazioni per il mese di luglio, ma siamo in attesa delle nuove per ultime disposizioni per capire come muoverci anche perché gli organizzatori, o meglio non possiamo esporre gli organizzatori a rischi importanti, perché insomma il Covid è una questione seria e deve essere trattata con la massima attenzione. Sì, anche perché se dovesse ripartire il contagio ci sono anche delle responsabilità dirette. Per quanto riguarda gli impianti, stanno aprendo tutti, con le difficoltà consuete e una portata decisamente ridotta rispetto a quella che è la possibilità. Da voi sono già ripartiti gli impianti? No, li apriranno a breve, non sarà però un problema per l'estate, anche perché non c'è l'afflusso ovviamente che c'è in inverno, però sarà un buon banco di prova per la stagione invernale, ma mi pare che le società, il Dolomiti su Peschi, Anefa abbiano trovato, insomma abbiano individuato le soluzioni migliori per garantire sia per l'estate ma soprattutto anche per l'inverno di poter sciare e godere delle piste e delle strutture sistiche invernali in piena sicurezza. Non possiamo aiutare il fatto che nel comune di Livina Lungo del Collo di Chilana c'è una residenza sanitaria assistenziale che se l'è cavata molto bene, fortuna o capacità dei gestori? La fortuna nella vita serve sempre, però è merito della Foto di Servizi del Direttore, perché insomma siamo stati tra le prime case di riposo nel Veneto a chiudere, hai tutti gli estranei della struttura e abbiamo adottato delle ferre e disposizioni proprio per arginare questa pinna via che al tempo poi nessuno conosceva, perché insomma a febbraio parlare l'epidemia era un po' quasi un'utopia perché la sentivano lontana, insomma c'era l'Udigiano, c'era la zona rossa di Vopero, insomma si pensava che da noi non arrivasse, noi abbiamo veramente fatto le cose per bene, non abbiamo lasciato nulla al caso e oggi abbiamo una struttura Covid-3. Non avete avuto nessun contagio o qualcosa c'è stato da voi? Noi abbiamo avuto in totale 7 contagi, un decesso imputato al Covid-19, però devo dire che insomma molti di questi 6 casi sono risultati positivi al primo tampone e a tutti i successivi negativi, quindi poi sono stati… Senti, il Covid arriva dopo un periodo altrettanto difficoltoso, quasi due anni sono passati, mancano pochi mesi, da Vaia, la situazione si riesce a governare anche in questo periodo? Parlo, non so, tutti i lavori per i paravalanghe che erano previsti, gli esboschi? Ma sì, prima che noi abbiamo avuto l'inverno 14 che è stato terribile, poi c'è stata Vaia, poi c'è stata a novembre dell'anno scorso, ma anche a novembre ha fatto tantissimi danni, una neve strana, molto pesante su dei boschi che sono stati spazzolati mica poco da Vaia e poi adesso il Covid, quindi insomma dovremmo aver dato. Dove sono stati mancar niente? Ci ho detto, i ritardi imputabili all'epidemia sono stati veramente di poche settimane, tant'è che le ditte incaricate da Venezostrada, il soggetto attuatore incaricato dal governatore Zaia di proteggere i paesi dalle valanghe, hanno iniziato quasi tutte sui sette siti che sono i primi sette siti che stanno per essere messi in sicurezza, per un importo vicino ai 30 milioni di Euro, siti che vanno da corte fino a Collaz, quindi stanno lavorando, ma il lavoro da fare è talmente enorme, ci vorrà parecchio tempo. Quindi non quest'anno? No, verosimilmente non ultimeranno quest'anno, forse su un sito piccolino, ma stiamo parlando di tanti ettari sopra i paesi, quindi piante da togliere man mano che si fanno i paravalanghi, quindi è un lavoro difficile e non di facile realizzazione proprio per le pendenze che abbiano e la scarsità di strade forestali di penetrazione su quei siti. Naturalmente il pericolo rimarrà anche questo inverno, ci saranno degli accorgimenti per far sì che in caso di Slavina la strada venga bloccata, tutte queste procedure sono già state messe in atto. Assolutamente sì, noi abbiamo un piano di protezione civile apposito per questo tipo di rischio nuovo causato da Bahia, oltre a quello che già abbiamo per le valanghe che ben conosciamo. Un nome e un destino, le vina a lungo. Sì, nome e lame dicono, però abbiamo la fortuna però di conoscere le valanghe, di conoscere la pericolosità di questo rischio, però abbiamo veramente un piano che è monitorato continuamente, sappiamo esattamente quanti abitanti, dove, le vie di fuga, le persone in difficoltà, le attenzioni particolari che servono in caso, spero non succeda mai, di evacuazione. Senta, cambiamo completamente argomento, è improvvisamente entrata nella discussione un'azione fatta dagli Schutzen che vi ha coinvolto, penso che lei come amministratore poco ne sapesse, questa idea bislacca di mettere dei cartelli nei quali si delimita questa immaginaria regione ladina che rimane immaginaria nei termini territoriali, poi di fatto viene riconosciuta. Lei che opinione ha riguardo a questo? Ma hanno fatto questa… Scusi, ricordiamo che sono stati messi dei cartelli da parte degli Schutzen, quale viene all'ingresso dei paesi per Cortina, con la Santa Lucia e le vina a lungo. Le vina a lungo, sì, scrivendo sostanzialmente una frase in tedesco che sta a significare il sud, vuoi per i confini, vuoi per la bellezza del sud, ci ho detto, credo che sia un'azione da condannare, però bisogna anche dire che hanno anche voluto forse far emergere una una recriminazione che è quella del referendum, al quale stiamo attendendo da oltre dieci anni risporta da parte della politica. Secondo lei se si rifacesse il referendum adesso avrebbe lo stesso risultato? Ma credo di sì. Sì? Va bene. Credo di sì. Parliamo adesso del parcheggio di Pieve, perché è una storia incredibile che la vede coinvolta. Il parcheggio di Pieve di Livina a lungo serve vicino al centro dove ci sono tutte queste bellezza e poi anche la posizione panoramica. Viene fatto uno studio e lo studio naturalmente comporta anche un investimento, un costo che viene messo, viene fatto il bando. Vince chi fa il ribasso più forte, però poi ci sono le sorprese. Questa volta le sorprese non sono davvero mancate. A che punto siamo? Era un'opera che se non sbaglio doveva essere finita un anno o due fa? Forse anche tre. Forse anche tre. Invece è ancora da finire. Forse anche tre. Invece è ancora da finire. Vuoi per il ritrovamento di un ordigno bellico, quindi per questioni burocratiche e autorizzative abbiamo perso oltre due anni. Poi abbiamo fatto le analisi geognostiche che hanno evidenziato delle criticità importanti del terreno. Quindi un'ulteriore valutazione dei costi dovremmo mettere giù qualcosa come due chilometri di micropali per sostenere la struttura e ancorarla al terreno oltre che alleggerirla per quanto possibile. Per evitare che scivoli. Per evitare che scivoli. Quindi queste analisi che erano previste dalla perizia geologica ma forse dovevano essere fatte prima della progettazione hanno comportato sostanzialmente un aggravio dei costi per circa 600 mila euro. Forse che non è il doppio ma poco si manca. Insomma è una cifra molto importante che è interamente poi a carico del comune. 180 mila euro li destiniamo a brevissimo a Rocca che colgo l'uncazione per ringraziare il sindaco e gli uffici per la grande molle di lavoro che fanno anche per noi sui progetti di fondi di comune di confine proprio per consentire di avviare i lavori e rendere il parcheggio funzionale cioè collaudabile. Poi ci dobbiamo mettere praticamente tutto con poco meno di 400 mila euro quello che serve insomma. E quello sarà un parcheggio che serve soprattutto per chi vuole salire il col di lana? Sì ecco Pieve non può noi non possiamo rinunciare a quell'opera molto molto importante per Pieve non abbiamo dei parcheggi a sufficienza e questo dà veramente un ampio un ampio respiro alla assente necessità di parcheggi non solo in taluna situazione ma proprio durante tutto l'arco dell'anno. Una battuta veloce riguardo alla SPA che fa parte dei progetti dei comuni confinanti in provincia di Belluno erano due le strutture una Falcade che sembra abbia rinunciato mentre voi si leggeva sui giornali avete raddoppiato per questa SPA in che senso avete raddoppiato? Ma noi raddoppiato no insomma noi abbiamo affidato all'Unione Montana Feltrina l'incarico di realizzare l'opera anche perché con gli uffici che abbiamo sarebbe impossibile un aggravio molto molto importante e quindi l'Unione Montana Feltrina ha affidato la progettazione preliminare e lo studio di effettibilità come si chiama adesso e anche l'analisi di sostenibilità economica finanziaria insomma adesso stiamo proprio per conciliare queste due cose e la progettazione lo studio preliminare ha evidenziato che servono ancora 3 milioni e mezzo e per completare per rendere l'opera veramente bella e funzionale quindi abbiamo chiesto al fondo un'ulteriore assegnazione di denaro proprio per completarla anche perché noi siamo al centro tra diverse strutture Guarnier che la sta ristrutturando con mi pare oltre 11 milioni di euro ne abbiamo una a Canazzei ne abbiamo una a Pozza ne abbiamo una a Brunico una a Campature insomma siamo un po' al centro di aree dove ci sono diverse strutture noi dobbiamo realizzare una struttura che sia veramente al top e quindi concorrenziale con quelle vicine il vantaggio è che siete in un posto che gli altri non hanno sì perché è una grossa fortuna abbiamo esaurito il tempo nostro a disposizione siamo stati con leandro grones sindaco del comune di livina lungo del col di lana li invito naturalmente a conoscere questa zona ce ne sono tantissime dei zone partendo da rabba naturalmente tutte le montagne d'intorno dal sella alla lunga cresta è quella del padon del padon poi c'è il kerz che è molto bello c'è la zona di davidino c'è col di lana poi c'è sezza insomma c'è che il montepore che dividiamo con colle santa lucia ma noi abbiamo tantissime tantissime passeggiate da poter fare quindi l'invito a prendere la libertà e sicurezza di visitare questo bellissimo comune grazie per la vostra attenzione e buona serata grazie 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 a tutti.